Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Laura Maddaloni è una delle protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Sappiamo che in passato è ricorsa alla chirurgia estetica, ma sapete quanto ha speso? La cifra è davvero assurda, scopriamo di più Laura Maddaloni. Per Laura Maddaloni, l'Isola dei Famosi è un'esperienza nuova, dato che non è mai stata un personaggio televisivo, infatti, è diventata famosa per i suoi risultati sportivi Essendo una grandiosa atleta, ci tiene molto a mantenersi in forma e a curare il suo aspetto fisico Sapete cosa si è rifatta e soprattutto quanto ha speso? Non ci credereste mai, scopriamo di più Laura Maddaloni e il suo rapporto con la chirurgia estetica.Nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi vediamo Laura Maddaloni, la campionessa di arti marziali, insieme a Clemente Rosso, suo marito, affrontare la loro nuova avventura in Honduras Senza dubbio, sono i protagonisti indiscussi del reality di Hilary Blasi Ma ad attirare particolarmente l'attenzione è stata proprio lei .Clemente Russo e Laura Maddaloni Nei giorni scorsi il giornalista Armando Sanchez del magazine Novella 2000 ha intervistato Giacomo Urtis, chiedendogli un parere sui naufraghi di questa edizione Il chirurgo David, ha parlato di Laura Maddaloni e del suo rapporto con i ritocchini, dicendo Su di lei potrei dire davvero tantissime cose Si vede che ha un po' esagerato con la chirurgia estetica Anche perché è arrivata a Caio Ucocchi non stroppo artefatta Ma cosa si è rifatta Laura Maddaloni? Stando alle parole del chirurgo, la naufraga avrebbe le ciglia finte, il trucco permanente e il filerale labbra Ma quanto avrebbe speso per tutti questi ritocchini? Scopriamolo .Quanto ha speso Laura Maddaloni dal chirurgo? La cifra è assurda Secondo una ricerca sul web, gli interventi di Laura Maddaloni avrebbero un costo davvero elevato Il prezzo extension alle ciglia si aggira intorno ai 200 euro Inoltre, la tecnica del trucco permanente e del filerale labbra ha un costo di circa 500 euro Insomma, il prezzo di ogni trattamento non è affatto basso Facendo un confronto con le foto del passato e quelle attuali, possiamo notare il clamoroso cambiamento della naufraga Un utente, su Twitter, ha commentato ironizzando sui numerosi ritocchini di Laura, dicendo Una cosa è certa, ora il chirurgo di Laura vive di rendita Dobbiamo precisare che i prezzi elencati precedentemente sono una stima basata sulle informazioni sul web La diretta interessata non ha mai confermato o smentito queste informazioni Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao